Sono ore calde per il calcio italiano. È in corso, infatti, da qualche ora un consiglio federale importante che ha in agenda tante tematiche. Sul tavolo un nuovo conflitto tra federazione e lega di Serie A, oggetto della contessa, la maniera con cui terminare eventualmente le competizioni nel caso di contagiati da coronavirus fra atleti o addetti ai lavori. La FGC ha proposto il famoso algoritmo di diverso parere. La maggioranza delle società di Serie A che invece vorrebbero terminare senza l'assegnazione dello scudetto e con il blocco delle retrocessioni, a meno che queste due sentenze non siano già matematiche al momento dell'eventuale nuovo fermo del torneo. Il tutto avviene a pochi giorni dalla ripresa ufficiale del calcio, fissata per venerdì con la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia. La decisione della Lega di Serie A, adottata non più di tre giorni fa, ha scatenato la reazione adirata del Benevento I in Serie B e destinato alla massima serie. In caso di blocco delle retrocessioni, anche la società del presidente Vigorito vedrebbe notevolmente pregiudicata la propria posizione. Il numero uno dei sanniti ha già preannunciato una battaglia legale molto forte se dovesse passare la linea della Lega di Serie A. Il Consiglio pone all'ordine del giorno altre tematiche scottanti come la proroga dei contratti e delle licenze fino al prossimo 2 agosto, quando dovrebbe terminare la stagione 2019-2020. Non solo, si parlerà anche dei campionati minori e si analizzerà la proposta della Lega Pro di chiudere la stagione decretando la promozione in B di Monza, Vicenza e Regine e di procedere alla disputa dei play-off volontari e dei play-out. Il Consiglio, che è in corso, dovrebbe poi ratificare le proposte scaturite nell'ultima assemblea della Lega Nazionale di Dilettanti, classifica cristallizzata, promozione delle nove prime classificate di ogni girone e retrocessione delle ultime quattro. Quest'ultima decisione ha già provocato un vespaio di polemiche che ha portato ad una missiva della maggior parte delle retrocesse che promettono guerra in tutte le sedi possibili. Stasera se ne saprà di più e daremo tutti gli aggiornamenti definitivi del caso. Intanto il numero uno della FIFA, l'italiano Gianni Infantino, in un videomessaggio rivolto a 211 stati, ha garantito che si sta lavorando ad un piano finanziario straordinario per aiutare il calcio in crisi dopo l'emergenza coronavirus. Un pensiero rivolto ai tifosi che devono ritornare allo stadio il prima possibile perché il calcio non sarebbe lo stesso senza il supporto dei tifosi. Ha concluso Infantino, concludiamo con un episodio da stigmatizzare. Sabato scorso nel corso di una conferenza stampa presso lo stadio Pinto di Caserta si è verificata un'aggressione ad alcuni giornalisti presenti. Si era in corso la conferenza di un dirigente della Casertana quando tre ignoti sono entrati nella sala e hanno spruzzato polvere da estintore contro alcuni cronisti lì presenti. La Casertana presenterà denuncia contro un gesto vile e certamente inspiegabile.